Claudio Cipolla, le sfide del CGL per il 2020, ieri c'è stata l'audizione in Commissione di Attività Produttiva della Camera per AST, uno dei noti per quello che riguarda i lavoratori eternali, non sarà l'unico. Sì, l'audizione conferma lo stato di difficoltà del settore industriale, in questo particolare caso di AST e del settore manifatturiero dei metalmeccanici. I dati che abbiamo in possesso dell'IRES confermano questo trend negativo perché la crisi non è finita, perché su questo territorio la crisi ha effetti negativi molto più evidenti di altri territori e dentro questo scenario non rassicurante è chiaro che l'importanza dell'iniziativa e dell'azione sindacale è un'importanza derimente. Ci siamo stati nel 2019, ci siamo stati aumentando gli iscritti, ci siamo stati aumentando le prestazioni che ai servizi sono state fatte verso i cittadini, verso le lavoratrici e i lavoratori e quindi questo significa che c'è più bisogno di sindacato. Sul 2020 vogliamo intensificare la nostra azione partendo da quelle che sono le nostre idee, partendo da quelle che sono i nostri valori, partendo da quelle che sono le nostre proposte di riscatto per questo territorio e su questo fare la nostra azione contrattuale per migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle persone con un obiettivo che è quello di ridurre le disuguaglianze. I dati parlano di una crisi che ha portato a una perdita di posti di lavoro e una fuga dei giovani in Umbria, soprattutto a Terni. Esatto, il dato preoccupante è che si sono persi sul 2019 circa mille posti di lavoro, è aumentata la cassa integrazione, aumentano i giovani che non trovano lavoro e la cosa più preoccupante è che aumentano i giovani che il lavoro non lo cercano più e aumentano i giovani laureati che dall'Umbria cercano lavoro fuori dalla regione Umbria. Questo è un dato preoccupante che se si mette insieme all'invecchiamento che questo territorio sta avendo dal punto di vista demografico ci riconsegna un'emergenza sulla quale serve uno scatto di orgoglio da parte di tutti per rilanciare questo territorio dal punto di vista soprattutto del lavoro.